Sulle affissioni elettorali illegali interviene oggi anche il circolo di Acireale di Italia dei Valori che già nelle scorse settimane aveva chiesto che venisse contrastata e sanzionata ogni forma di propaganda elettorale fatta al di fuori dei limiti di legge e si provvedesse alla defissione dei manifesti abusivi nonché si procedesse alla convocazione di un apposito tavolo di concertazione tra le autorità preposte e i rappresentanti delle forze politiche malgrado ciò scrive in una nota il responsabile cittadino Michele Barbagallo l'amministrazione comunale non ha ancora adottato alcun concreto provvedimento si chiede pertanto conclude Barbagallo un tempestivo intervento in ossequio alle norme che regolamentano la materia ma innanzitutto a difesa del decoro della città anche mediante il controllo del territorio nelle ore notturne da parte delle forze dell'ordine con interventi finalizzati ad individuare i responsabili in flagranza di reato e reprimere così ogni ulteriore attività di attacchinaggio abusiva